salve cari amiche ed amici qui il vostro saint jean beh dopo pranzo ho saputo perché ho accesso il televisore che italia ha perso 0 a 1 contro uruguay che peccato mannaggia ma non ve ne fate un cruccio tanto c'è chi vince e c'è chi perde oggi è toccato a noi domani tocca loro poi ai mondiali si arriva solo uno a vincere mica tutti fossero tutti i problemi del nostro paese invece no benvenuti al brusco risveglio ben trovati nella realtà adesso dopo questa evasione calcistica questa proiezione onirica nel mondo illusorio dello sport di massa e ritornate bruscamente alla dura realtà perché magari se vinceva la nazionale giù a dire che era merito del governo dell'organizzazione che il paese sta organizzato perché è riuscito a vincere mondiale bla 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 merito di renzi merito di berlusconi merito di grillo invece la sconfitta e orfana di padre ed è orfana di madre la vittoria invece clama sempre la paternità di tutto il mondo e quindi non vi possono dire che colpa di questo è colpa di quello se si è perso o è colpa del paese adesso stanno tutti zitti e si scordano del mondiale se invece vinceva la nazionale tutti a dire a capitalizzare la vittoria perché bisogna andare in quella direzione bisogna andare nell'altra ha contribuito alla sinistra ha contribuito alla destra è stato merito del papa no sono stati gli anarchici o gli atei a contribuire alla vittoria e merito tuo merito mio merito di chiunque il merito è sempre in merito ma il calcio non resta che uno sport continua a restare uno sport è un divertimento un evasione un passatempo non una cosa seria giusto e quindi non ce ne frega la vita continua va avanti con la senza coppa ecco solo nel caso di avere colesterone mia alta gli avete si deve andare avanti senza coppa perché a me la coppa che mi frega di più e quella di maiale la testina tutte le altre coppe mi fregano di meno come sa chi prende aperitivi che c'è un insetto che si mangia d'entrata l'aperitivo che è stuzzicante perché piccante poi niente adesso dopo tanto essersi trasformati i nostri concittadini in zombie del mondiale finalmente escono da questa catatonia e si rendono conto che sono stati promotizzati da questo gioco la vita più gramma e più dura benvenuti nella realtà dovendo pagare le bollette le spese le tasse limulici tutto il resto che mi hanno cambiato nome 20 o 30 volte nel gioco non si può vivere forse qualcuno vive del gioco ma nel gioco non si può vivere bisogna ritornare alla vita reale quindi benvenuti a tutti voi dopo la delusione del mondiale continuare a vivere come sempre come tutto il mondo anche come nei paesi dove neanche giocano a calcio o non sono potuti entrare nel mondiale quindi poi che dire quello che mi stupisce di più non è la scoppita nel mondiale anche i mondiali anteriori si è perso per tutti a dire che si è ritornati come negli anni 60 ma che quello che preoccupa di più è che si è ritornati alla disoccupazione del 70 o dell'ottanta ma che si sia calcisticamente ritornati alle prestazioni degli anni 60 a chi può fregare non so invece la disoccupazione e l'inflazione sono a livelli 60 e 70 e forse 80 e quello più grave più preoccupante poi non so per voi forse voi avete lavoro e io no ci sono molte cose più serie questa politica che non si capisce più niente chi di e di destra chiediti sinistra e chiedi centro fini ritorna come arbitro cioè nel centro ma non era di destra anzi prima di estrema destra poi si è alleato con la sinistra e adesso di che centro e perché c'è un centro in italia a c casini beh centro molto importante che tristezza la politica italiana che schifo neanche già un'ideologia una spina dorsale nulla fra i politici che fanno i comici e il comico che fa dei comizi politici in italia non si sa realmente che pensare si è perso la rotta non si ha più la bussola siamo ammainato le vele comunque sto leggendo perché una delle forme migliori per evadere non lo sport spettacolo ma la lettura e qua di evasione ne ho davvero tante anni di evasione soprattutto soprattutto dicevo questi due libri sono in modo particolare dei libri di evasione dei testi di evasione come potrete vedere di henry chariere papillon e banco ed i chariere banco il seguito dell'avventura di papillon che è questo qua e sono proprio dei libri di evasione eccolo qua e le chariere io ho fatto un commentario ai suoi libri ma ne dovrò fare uno più dettagliato e allo stesso tempo ampliato non sto qui a spiegarvi chi è henry chariere perché ce l'ho fatto in un video ma ne farò altri ecco se volete evadere dei problemi l'unica forma è di leggere almeno dal ritorno dalle evasioni nelle letture avrete con voi qualcosa di concreto che vi servirà nella vita di tutti i giorni non come col calcio che vi serve solo a distrarvi io poi di lettura e non ne ho lette molto del mare anche se sono il capitan saint jean a parte le avventure di gordon pine o pin di edgar allen poi che me sono molto piaciute anche insieme i racconti del mare generalmente a parte quelli di lovecraft non mi interessano però ricorda un pin è molto interessante e poi anche tutte le altre avventure di poi soltanto che il grotesco lorrido e il terrorifico di poi è molto viscerale tipo allo stile di dario argento invece mi piacciono l'avventura oniriche e gli incubi di lovecraft a war philip lovecraft perché è più metafisico più come se non capisce se è successo veramente o è stato un delirio onirico del protagonista magari sono aperte anche altre spiegazioni più terrenali però difficilmente cade in una greve violenza come poi però ecco anche a leggere che poi è divertente poi mi è piaciuto molto casca i suoi diritti sui paradossi come sempre faccio dei video per tenermi in contatto con voi alcuni li hanno visti migliaia di volte altri due o tre che peccato no non dico che peccato per quelli che li hanno visti migliaia di volte per quelli che non gli hanno visto un saluto a tutti voi questo è stato il mio videoclip clip di oggi tanto per tenermi in contatto con voi e salutarmi devo sto continuando a leggere circa il calcio come occhio del popolo come droga delle masse tutto quello che implica e presto farò un video a rispetto e saluto tutti tutte ciao grazie per seguirmi per consigliare i miei video il mio canale per iscrivervi ed è la prossima dal vostro santa john dal vostro capitano santa john ciao e marco marco travaglio mi raccomando tu che cercavi un capitano per la nave eccolo qua veramente sono libero e disponibile per essere capitano della nave che è rimasto senza non chiero che è rimasta senza non chiero e senza conduttore per cui qua c'è un capitano per la nave e forse anche per il paese così togliamo l'altro capitano che a te non piace ciao